Tegola sulla giunta guidata dalla sindaca. Ieri sera l'assessore all'urbanistica Stefania Vecchio ha consegnato le sue dimissioni nelle mani di Cecilia, francese. Una lettera di cinque pagine nelle quali l'ex assessore ripercorre tutte le tappe del suo percorso nell'esecutivo e spiega le ragioni che l'hanno portata a prendere tale decisione. Sopraggiunte ragioni personali e professionali mi inducono a non continuare a far parte dell'amministrazione, scrive, certa che tale mia decisione contribuirà anche a rasserenare gli animi di parte della composita maggioranza consigliare. Nella mia azione amministrativa sono fiera di essere riuscita ad imprimere il medesimo crisma del mio modo di essere nella quotidianità. Serietà, dedizione, impegno, disponibilità e semplicità, attitudini all'ascolto sia di maggioranza che di opposizione e di questo sono felice.